Quindi questo è il secondo passaggio della treccia, hai mandato tutti i fili in su, quindi questo qui deve salire, perciò deve entrare nel primo arco che hai lavorato, il primo che sale, questo qui va riallargato e infilato questo a salire. Quindi allora, così, e lo infilo qua sotto, e poi lo faccio uscire in su, verso l'esterno, ok, e ora chiudi tutto, va bene? Quindi in questo modo hai fatto due passaggi, la treccia è completa, ritira questo qui, in modo da richiudere la situazione, poi se ne vuoi fare un'altra mezza, una intera, rifai i due passaggi che hai fatto finora. E rifò quindi tra, si, tra, esatto, e li mandi tutti giù, ok? Prendi sempre, aspetta, non ti confondere, questo passa sotto, lo lasci, questo e questo passa sotto, ok, e per chiudere, cioè quando ho finito il filo così? Quando è finito ti va a cercare la prima curva che scende, perché tu stai scendendo, la prima curva che scende dove non c'è questo, glielo infili. Ok, vai, e poi fai l'uniosa. Vale.